Maestro saluti, buonasera, auguri, buon Natale. Buonasera e ricambiati auguri di Felice Natale. Con questo appuntamento appunto del 25, ormai un appuntamento da 15 anni tradizionale, apriamo la stagione di Natale della Società dei Concetti Sorrento che terminerà appunto inizio oggi il 25 e terminerà il giorno 1 verso la Basilica di Sant'Antonino. Non sono solo gli appuntamenti dedicati alla Basilica di Sorrentino. Abbiamo appuntamenti appositati a un altro piano di Sorrentino, in due frequenze e via dicendo. Ovviamente gli appuntamenti di Sorrentino sono il nostro biglietto da visita e quale migliore cornice per inaugurare, se non appunto, la chiesa della Santissima Annunziata in questo splendido tempio ricco di storie e di arti. Che è un concetto dedicato, maestro. È un concetto che nasce per celebrare la memoria della compianta bianca della Campora, quindi la famiglia Campora che vuole rinnovare ogni anno la memoria della loro signora Bianca. Quindi a loro dobbiamo il nostro prezioso appunto ringraziamento ovviamente alla città di Sorrento che ci accompagna in questo viaggio musicale. Natale intenso, penso, forse un po' più intenso del solito perché tra i concerti c'è anche un appuntamento speciale eccezionale, quello del giorno 30 dicembre. Sì, musicale teatrale. Sì, siamo stati investiti anche, non ci dedichiamo soltanto ai concerti musicale classi, ma anche a qualcosa storico. Abbiamo ricreato appunto la leggenda dell'omicidio di Maria Davalos con Merol, quindi questo Millarcum, questo Gesualdo Domenosa e poi Votel Tassolo. Sarà una serata di tutto gradimento. Siamo per iniziare. Ringrazio tutti coloro di depositato di uso e tutti coloro che ormai ci seguono da tempo e rinnovo e riformano i miei migliori auguri di Buon Natale. Raffettando a voi, professore Cibica, auguri di Buon Natale. Grazie.